Tuvigedu da un lato e poi quasi la laguna di Santa Gilla dall'altro. Nel mezzo Santa Vendracce, un rione periferico a metà. Negli anni la situazione è comunque migliorata rispetto al passato, ci sono più attività commerciali, però i problemi sono quelli che ci sono in quasi tutta Cagliari. Un problema legato alla mancanza di lavoro, al poco lavoro, anche problematiche un filo più leggere. Per esempio la problematica dei parcheggi, pochi a detta dei commercianti sfruttati decisamente male. E poi ci sono anche le proposte comunque di chi vive e lavora in uno dei rioni più abitati di Cagliari che lancia come proposta una valorizzazione sempre maggiore di Tuvigedu, insomma il classico volano della cultura che potrebbe far rivitalizzare uno dei quartieri cagliaritani che rappresentano contemporaneamente sia un'entrata sia un'uscita dal capoluogo sardo.